A12 La statale 330 è chiusa in località Albiano Magra, nel comune di Aulla, a causa del crollo del ponte sul fiume Magra. Il traffico è deviato con indicazioni sul posto. La viabilità cittadina a Firenze per lavori in via Panciatichi di vieti di transito sulla direttrice composta tra via Panciatichi e via dello Stecuto. Poverse in Toscana è un servizio realizzato in collaborazione con Regione Toscana, città metropolitana di Firenze e comune di Firenze. Buon viaggio! Grazie a tutti!